Eccoci qua con Mr. Sturm, Mr. Romai ci siamo, siamo pronti per l'esordio in campionato, la gara contro la Cittadella da Il Via al nuovo campionato 2021-2022, un Udinese che adesso inizia a fare sul serio. Sì, siamo tutti che aspettavamo questo giorno che iniziava perché avevamo un lungo ritiro e quindi non aspettavamo questo giorno che iniziava, speriamo bene. Sicuramente loro hanno già giocato la prima, noi riposavamo, siamo preparati, i ragazzi lavorano bene, quindi non abbiamo paura di nessuno, sia mentalmente che fisicamente siamo a posto. Quindi per domani sono sicuro che farà la squadra una grande gara, li abbiamo visti, sono pericolosi, il Cittadella, lì davanti c'hanno degli attaccanti molto pericolosi, quindi dobbiamo stare attenti alle loro ripartenze e poi fare la nostra partita come si può fare. Sì, adesso inizia un tour di force, quindi abbiamo poi la Coppa, poi di nuovo il campionato, abbiamo una rosa ampia e sicuramente poi vediamo, dobbiamo guardare partita dopo partita perché vogliamo fare bene sia in campionato che in Coppa, andare avanti, e poi vediamo sabato dopo la partita come siamo fisicamente, mentalmente e sicuramente cambieremo qualche cosa con la partita contro il Vicenza in Coppa.